Da quest'anno scolastico la scuola primaria Nelson Mandela fa parte della grande famiglia dell'istituto comprensivo Gela e Butera. Sin dall'inizio dell'anno scolastico si è cercato di avviare una stretta collaborazione fra scuola, famiglia e territorio creando un armonico sodalizio per la buona riuscita di progetti e attività. Ed in occasione delle festività natalizie tutti gli insegnanti e i bambini con l'aiuto anche delle famiglie hanno voluto ricreare il clima di un presepe vivente. Proprio perché è una nuova scuola che si integra con una scuola che ha già un suo percorso fatto di attività laboratoriali, di percorsi didattici in collaborazione frequentemente con le famiglie abbiamo cercato di creare un presepe vivente proprio in occasione delle festività natalizie. Un presepe che si snoda lungo appunto i corridoi della scuola e dove in ogni classe è stato costruito uno degli antichi mestieri di un tempo. I bambini devo dire sono stati entusiasti della proposta, non solo i bambini ma soprattutto le famiglie, le mamme che ogni pomeriggio assieme alle maestre con grande sacrificio hanno costruito ma anche divertendosi proprio i diversi laboratori. Questo per noi è lo spirito del Natale, la collaborazione costante con le famiglie, la capacità di fare una, mi permettetemi il gioco di parole, una buona scuola alternativa ad una scuola invece troppo stantia, una scuola che si apre costantemente al territorio e che offre anche degli straordinari valori, qual è il senso della solidarietà, della condivisione e il senso costante della famiglia in una società che spesso è in crisi. I bambini infatti che nel corso dell'anno si sono chiesti, ci hanno chiesto cosa potessero fare per festeggiare il Stato Natale in maniera diversa dal solito. La scelta è ricaduta nell'allestimento di questo presepe che magari non è stato curato nei particolari, per carità non vuole competere con tutti i presepi che ci sono bellissimi in giro, ma vuole mostrare la voglia, il piacere di festeggiare la nascita del nostro Salvatore. I bambini sotto la sapiente guida degli insegnanti si sono adoperati per ricostruire gli antichi mestieri all'interno dello spazio antistante alla scuola. Ogni mestiere è stato rappresentato dalle singole classi. Quest'anno con una nuova dirigente questa scuola è molto cambiata, stiamo facendo molte cose, tante feste, grazie alla nostra maestra di religione, stiamo organizzando tante cose. È un'emozione fantastica che viviamo sempre tutti nel nostro cuore, quindi è una cosa bella festeggiare il Natale. Spero che tutti lo festeggiano.